Buonasera, ringrazio il consiglio direttivo da parte del professor Rizzo, che purtroppo stasera non può essere qui. Cercherò di essere il più possibile all'altezza. Le novità in chirurgia minoinvasiva. Oggi possiamo parlare dell'arrivo della vitrectomia ultravelocità, fino a 7500 tagli per minuto. L'ultimo stadio della chirurgia minoinvasiva, quindi il 27 gauche, che oggi è sul panorama della vitrectomia forse il calibro più piccolo di cui possiamo disporre. E infine il sistema di visione durante l'intervento di vitrectomia rivoluzionario, che sarebbe l'OCT intraoperatorio. L'aumento del numero di tagli nel vitrectomo nasce da un concetto abbastanza antico che ci insegna che più tagli è meglio. Questo arriva dal fatto che più tagli portano una lunghezza delle fibre vitreali che vengono ingaggiate nella bocca del vitrectomo più corte e quindi si trasmette in minore vibrazioni della superficie retinica. Certo è che le performance dei vitrectomi non dipendono solo dal numero dei tagli, soltanto studi recenti e recenti acquisizioni hanno mostrato che il flow rate dei nostri vitrectomi non dipende soltanto dal numero dei tagli, ma soprattutto dal diametro del lume interno della sonda e dal duty cycle. E soprattutto il duty cycle è quello che nell'aumentare il numero dei tagli per minuto ha il più grande impatto nel flow rate delle nostre sonde. Gli studi ultimi che vengono un pochino riportati sono quelli su vitreo porcino, che dimostra come aumentando il numero dei tagli la regolazione del duty cycle è importante per migliorare i nostri flow rate delle nostre macchine. E in particolare come questo si risente nelle sonde a minor diametro. Vediamo che in un duty cycle del 50% un aumentare il numero di tagli da 5.000 a 7.500 aumenta del 31% le performance di un vitrectomo di 27 gauges e migliora le performance per esempio di un 25 gauges tale da renderlo superiore in termini di flow rate rispetto a un 23 gauges di calibro maggiore. Quindi lo stesso succede in un duty cycle di tipo shaved, quindi dove la bocca rimane durante il periodo di lavoro più chiusa. Qui il 25 migliora notevolmente e il 27 gauges risente il miglioramento maggiore. Il contrario invece per esempio avviene in un duty cycle di tipo core, quindi dove la bocca rimane più aperta. Questo probabilmente, questo dimostra che il vitreo tagliato con un alto numero di tagli, quindi altamente fluidificato, permette al flow rate di subire un andamento simile a quello che succede negli studi condotti da Charles sulla BSS e l'aspirazione dei vitrectomi. Quindi che cosa abbiamo? Che l'aumento dei tagli con l'associazione giusta di duty cycle permette alle nostre sonde anche di calibro minore e di avere un potenziamento notevole del proprio flow rate e soprattutto di poter avere performance con il 25 gauges che superano quelle del 23 gauges. E soprattutto il 27 gauges, quindi a sonda più piccola, ha un numero di tagli maggiore con il corretto duty cycle, migliora notevolmente le proprie performance. Cercherò di parlare rapidamente del 27 gauges per non rubare spazio al collega che viene dopo. Dirò poche cose, oggi è l'ultimo calibro di cui disponiamo. In realtà il 27 gauges arriva dal 2004, quando viene introdotto nel mondo della vitrectomia le prime sonde, i primi candelieri illuminanti da 27 gauges. Oggi nel calibro di 27 abbiamo un notevole numero di strumenti. Abbiamo gli One Step Trocart, abbiamo delle sonde vitrectomo, abbiamo delle sonde di illuminazione, abbiamo dei laser, abbiamo delle pinze per superficie retiniche. Saltiamo il video così recuperiamo un po' di tempo. Abbiamo una casistica nostra derivante da Pisa, dove abbiamo cercato di applicare il 27 gauges a una varietà di casi clinici abbastanza ampia, quindi sia patologia maculare che distacchi di retina e retinopatie diabetiche. I nostri risultati dimostrano che questa tecnica, nonostante il calibro più piccolo, può essere applicata a una variabilità abbastanza ampia di patologie, senza riportare particolari problemi rispetto alle sonde di calibro maggiore e di avere comunque un successo anatomico, almeno nella prima fase di follow up del 100%. Oggi possiamo dire che le indicazioni della chirurgia mini-invasiva da 27 gauges sono principalmente i problemi maculari, quindi le membrane pirietiniche, i fori, le trazioni vitro-maculari, l'edema maculare. Però ci può essere un adattamento di questa tecnica, un'applicazione di questa tecnica senza problemi anche a patologie retiniche più importanti come il distacco di retina, la retinopatia diabetica, la possibilità di avere biopsie vitreali o nei casi di endoftalmite. L'intra, l'OCT intraoperatorio, anche questo, solo oggi diciamo che raggiunge il massimo della propria espressione, anche se già in passato, come si vede nell'immagine in alto a sinistra, alcuni chirurghi si erano inventati dei sistemi per poter adattare un OCT portatile a un microscopio intraoperatorio per poter avere un'analisi di quello che stava succedendo. L'evoluzione è stata abbastanza rapida fino ad oggi che disponiamo del nuovo microscopio della Zeiss che ci permette di fare un real-time OCT. In realtà, anche se l'OCT intraoperatorio è abbastanza nuovo sul panorama chirurgico, ci sono già molti articoli in letteratura che parlano di possibilità di applicazione alla chirurgia vitro-retinica. In particolare, è stato applicato per queste modalità, cercare il punto di clivaggio migliore delle membrane epiretiniche oppure andare a cercare zone di trazione vitro-retinica ancora presenti. Interessante è questa nuova forma di residuo postoperatorio immediato che si vede nella figura sulla destra dove il pinzare, la membrana limitante interna con la ILM forceps può dare questo distacco della cappa più esterna della retina che chiaramente non era possibile vedere dal giorno dopo l'intervento. Oppure può guidare la nostra chirurgia. Abbiamo un esempio sulla sinistra di una trazione vitro-maculare operata che al fine della risoluzione si è trasformato in un foro maculare e questo può indirizzare nell'utilizzo di un gas come tamponante invece che magari lasciare il paziente in aria. Oppure nei residui, come dicevamo prima, nella foto in alto a destra, nei residui di membrana che magari possono essere ancora pelati prima della fine dell'intervento. o nella figura in basso, la persistenza di fluido sottoretinico dopo l'applicazione di perfluorocarbono in un caso di distacco di retina. Grazie per l'attenzione.